Uno strumento musicale. È della tua terra, vero? Sai suonarlo? Sì. Potresti? No. Dove abbiamo già visto un manufatto identico? Nella camera di Tyr. Oh, un manufatto dell'impero fluviale. Non ci sono mai stato, ma deve essere carino. Oh, un manufatto. La cultura delle regioni meridionali. È con loro. Ti è familiare, vero, fratello? Quando uno più forte porta via la tua famiglia. Il senso di impotenza. Non avrei dovuto dirtelo. Eh? Mio fratello, Amos. Da giovane fu rapito. Come... Come i nostri lupi? Sì. Come... Come... Mai visto artigianato simile. Non immagino quanti anni abbia. Che pugnale stupendo. Inutile. Rituale. Bene, questi sono tutti i manufatti del Tempio di Tyr. Inutile. Inutile.